Che tra l'altro il sindaco non lo ha ricevuto e non ha ricevuto nessuna di queste persone che tendenzialmente andavano a incontrarsi appunto come, io non lo so fare così bene insomma con queste telefonate, andavano a incontrarsi nei ristoranti, nei bar, mentre questa città ha eletto un sindaco che se qualcuno ritiene di avere un'idea nell'interesse della città il sindaco gli dà un numero di telefono e gli dice ci vediamo domani alle 9 qual è l'area strategica trasporti, bene, alle 9 del mattino in ufficio con l'assessore dei trasporti e lì si discute se questa idea è importante o non è importante la città perché bisogna anche Grazie Grazie